Ben ritrovati i telespettatori della nuova tv, nuovo appuntamento in vista del referendum costituzionale del prossimo 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari. Oggi per lo spazio dedicato al Sì abbiamo ospite nei nostri studi Gersomina Sassano, vicepresidente della provincia di Potenza. Benvenuta. Grazie, grazie per l'invito. Salute a tutti i telespettatori. E allora, prima di iniziare con le domande, vediamo in questa scheda curata da Mara Risola cosa prevede il quesito referendario e quali saranno i riflessi per la Basilicata. Il 20 e 21 settembre gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum confermativo sulla riforma del numero dei parlamentari. Il testo di legge prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento. Da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. Nel dettaglio si conteranno 115 senatori e 230 deputati in meno. Se vince il no, resteranno 600 e 315. Con il riparto che deriverebbe dalla nuova legge, i deputati lucani subirebbero un taglio del 33,33%, passando da 6 a 4, mentre i senatori subirebbero un taglio del 57,14%, passando da 7 a 3. A differenza dei referendum abrogativi per la validità del referendum costituzionale, non è previsto il quorum. La riforma costituzionale sottoposta al referendum sarà promulgata se approvata dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente da quanti si rechino ai seggi. Da anni si parla di taglio dei parlamentari. Sassano, perché questa volta dovrebbe essere la volta buona? Perché credo che i tempi siano maturi. La nostra Costituzione, che per me è il Vangelo su cui si regge lo Stato e la Repubblica italiana, ha più di 70 anni ed è arrivato il momento di intervenire per adeguarla a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Sia gli elettori che chi amministra deve essere consapevole di questa necessità e di questo intervento. È una norma che va sicuramente a snellire quelli che sono le procedure, ma non va a penalizzare, a mio avviso e d'avviso del partito di cui faccio parte, di articolo 1, la democrazia. La democrazia è rappresentanza del popolo ed il popolo in questo momento vuole una riduzione dei parlamentari e non solo dei costi. C'è chi parla di principio di rappresentanza a rischio con questo taglio? È vero oppure no? Assolutamente no, perché una regione come la nostra può essere ben rappresentata da deputati e senatori che lavorano, che girano il territorio, che abbiano i contatti con i territori e con gli amministratori locali. Io nella veste di sindaco le garantisco che avere il doppio dei consiglieri su un piccolo comune non mi consentirebbe di lavorare meglio. L'importante è che si lavori, quindi non è una questione di quantità, ma di qualità. Senta, però l'abbiamo visto anche nella scheda curata dalla nostra collega prima, la Basilicata è tra le regioni che avrà il taglio maggiore in termini numerici. Può essere un'endica? Sicuramente avrà un rilevante taglio, ma questo non andrà a danneggiare la rappresentatività della nostra regione, che come tante altre piccole regioni avrà la possibilità e l'autorevolezza di far emergere in Parlamento quelle che sono le problematiche. e soprattutto i problemi del mezzogiorno non sono i problemi della sola Basilicata, ma comuni al Molise, alla Puglia, alla Calabria e ben farebbero i parlamentari eletti a lavorare in sinergia con i colleghi delle regioni vicine per poter avere anche una prospettiva di sviluppo di più lunga durata. Questa riforma è stata approvata praticamente a larghissima maggioranza, nell'ultima lettura alla Camera addirittura una votazione quasi bulgara, poi però alcuni partiti hanno preso le distanze, chi ha raccolto le firme per il referendum, chi oggi invece sostiene il no. Secondo lei perché? Il referendum costituzionale è stato previsto dal legislatore proprio per dare voce ai cittadini e chi l'ha proposto l'ha proposto probabilmente nella speranza di annullare una norma che era stata voluta dai cittadini, quindi io sono certa che gli elettori sceglieranno il sé. Chi a coloro a cui non piace sono quelli che della politica hanno fatto un mestiere, una professione, ma amministrare che sia a livello basso come un sindaco, un consigliere o un parlamentare non è un mestiere, è una funzione e questa funzione va esercitata in nome e per conto del popolo. In questo momento i cittadini ci chiedono maggiore sobrietà, maggiore attenzione e il numero dei parlamentari deve essere ridotto anche per garantire questo. La democrazia non ne sarà sicuramente mortificata. Quando questi stessi personaggi politici influenti che oggi invocano il no, quando sono stati ridotti il numero dei consiglieri nei consigli comunali non si sono strappati i capelli, non hanno agito, non hanno invocato referendum e non hanno lamentato una diminuzione di democrazia. Senta, questa riforma è a meno l'accusa dei vostri avversari in questo referendum, è che non va a modificare il difetto del meccanismo legislativo, cioè non abolisce il bicameralismo perfetto. Lei cosa risponde? Io dico che bisogna avviare una stagione di riforme, anche per adeguarsi a quelle che sono le democrazie europee e cominciare ad agire un passo alla volta. Si deve cominciare con la riduzione del numero dei parlamentari, che ormai è entrata nella mentalità di chiunque. Senta, invece con le liste bloccate, con l'attuale sistema elettorale non c'è il rischio di dare ancora più potere ai capi politici dei partiti? Quello è un discorso che andrà modificato con i dovuti accorgimenti. Lei crede che ci saranno meccanismi correttivi a partire dalla legge elettorale in senso proporzionale? Sicuramente. Senta, altro tema è quello che riguarda i paventati risparmi, diciamo, da questo taglio. Il Movimento 5 Stelle, che ha fatto di questa riforma un po' il cavallo di battaglia della sua azione politica, parla di 500 milioni a legislatura. però dall'altra parte c'è chi come l'osservatorio per i conti pubblici del professor Cortarelli ha sminuito, diciamo, queste cifre. Lei che idea si è fatta? Io sicuramente non ho un'idea concreta e darei numeri nel dire quanto si andrà a risparmiare. Sono certa che la riduzione del numero dei parlamentari comporterà una riduzione di costi e anche la riduzione dei senatori a vita comporterà altrettanto una riduzione con tutto il rispetto per le personalità che vengono nominate, ma il Parlamento per poter legiferare non ha necessità di avere tante personalità che poco si occupano dei problemi della gente. Senta, nei giorni scorsi l'ex presidente della giunta regionale, Tonio Boccia, ha dichiarato alla Nuova del Sud che se vince il no si resterà nel Pantano. L'unica occasione, diciamo, per sfasciare il sistema è appunto votare sì. Lei cosa ne pensa? Io sono pienamente d'accordo con questa visione perché è arrivato il momento di dare una svolta anche al modo di rapportarsi con i cittadini e con gli elettori. Senta, una delle accuse che viene rivolta, soprattutto nei confronti del Movimento 5 Stelle, è che chi vota sì in qualche modo va a segare la propria poltrona, il tentativo di poter tornare di nuovo in Parlamento. Allora, inevitabilmente ci sono delle personalità che negli anni sono state riconfermate sicuramente per l'ottimo lavoro svolto che al pensiero di non avere più la possibilità di ricandidarsi sono in ansia. Ma, come dicevo prima, la politica deve essere intesa come funzione e quindi le poltrone le dobbiamo abbandonare tutti. Io faccio il sindaco altri due anni e poi probabilmente tornerò a fare solo l'avvocato e non ci sono problemi. Avrò dato uno spezzato della mia vita e l'avrò dedicato al mio paese. Senta, pensa che il voto sul referendum possa avere ripercussioni sulla durata di questo governo? No, non credo assolutamente che possa, perché il governo sta lavorando bene. Noi abbiamo il più alto esponente, il ministro Speranza del nostro partito, nostro co-regionale, che si è distinto a livello europeo e mondiale per come è gestito questa pandemia. Il presidente Conte ha fatto riacquistare autorevolezza al nostro Stato e credo che nessun evento possa influire sulla tenuta del governo. E allora, per finire, un minuto di tempo a sua disposizione, perché i lucani e gli elettori in genere devono votare sì a questa riforma? Io invito tutti gli elettori lucani a non farsi abbindolare dalle favolette della diminuzione di democrazia. Non è una questione di numeri, ma è una questione di rappresentanza. Se avremo meno parlamentari, ma saranno parlamentari operosi, presenti sul territorio, che gireranno per conoscere quali sono le esigenze dei vari territori, dei vari amministratori e che soprattutto lavoreranno con presenza e con assiduità in Parlamento, sarà sicuramente un vantaggio per la nostra regione e non ne saremo penalizzati. Quindi io invito tutti gli elettori a votare per il sì. E allora, grazie a Gelsomina Sassano che ha rappresentato le ragioni del sì in vista del prossimo referendum costituzionale. Io ringrazio anche tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa e do appuntamento alle prossime tribune sul referendum.